siamo qui con la sarta cristina che sta facendo una nuova un nuovo vestito in pizzo è questo qua no non è in pizzo si che vengono decoupage del pizzo decoupage francese si decoupage tagliamo così al millimetro aspetta un attimo mi serve un forbice piccola allora procedimento c'è così abbiamo un pizzo che non serve non possiamo mettere tutto intero in altra parte allora allora prendiamo questo pizzo che ci è rimasto nell'altra parte e diciamo come si chiama questo fuorice lo stai ritagliando lo ritaglio lo lasciamo dal disegno 2 più o meno due millimetri per poter anche se non è cinque no cinque troppo cinque cinque sei troppi due e millimetri due e tre millimetri due tre millimetri femmo questo lavoro dopo dopo che abbiamo fatto questo prendiamo come sto fa un più più o meno dello stesso colore come come si è qua e allora dopo che abbiamo poi lo sistemiamo sul più come si è venuto qua e poi intorno è intorno al disegno del quel due millimetri si viene con la macchina da cucire il più grande che si veda si vede il cucito che viene così e poi su queste foglietti se si attacca sul tool mi viene questa roba il lavoro si viene così io sto facendo adesso sto attaccando delle fogliette che mi sono rimasti per non distaccarsi e poi sotto vieni che questa viene davanti con il ras lo stesso colore ti fai questo è firmato che ti porta anche raso va bene e allora salutiamo la cristina lasciamo lavorare con questo vestito stai facendo un vestito un nuovo vestito un nuovo vestito con il piccio attaccato sul tool attaccato sul tool mamma mia e qua sotto sul tool su questo piccio attaccato viene il ras di questo colore di azzurro bravissima bravissima la cristina la salutiamo ciao ciao ci vediamo alla prossima più avanti al prossimo corso con la cristina buona serata ciao a tutti ciao ciao